per la grande emozione che mi dette renitente al sentire a cura di VB a questo punto è necessario dire che 21 anni prima avevo scritto con uno pseudonimo un libro che raccontava la storia della cacciata di mio padre da un ente di cui era direttore generale questa è una notizia necessaria perché ha a che fare con Emmaus e con la mia renitenza al sentire la rimozione di mio padre dalla sua carica venne nel modo che io raccontai in un libro pubblicato da un grande editore dopo che una scrittrice importante lo lesse per caso perché lo lesse per caso? perché io ingenuamente e non potendo fare altrimenti non avendo conoscenze importanti mandai il dattilo scritto con il titolo Mamma Eci nelle sedi dei grandi editori e attesi una risposta che come accade spesso giunse negativa senza che nessuno avesse letto il libro dopo alcuni mesi però ricevetti inaspettatamente questa breve lettera che riporto per intero per la grande emozione che mi dette gentile signor abbiamo letto il suo libro Mamma Eci bruttissimo titolo e la invitiamo a parlare con noi siamo così pochi qui? seguiva una firma illegibile leggere e telefonare per avere un appuntamento nella sede romana dell'editore fu un tutt'uno mi fu fissato l'appuntamento e dopo qualche giorno una segretaria mi disse di attendere in un corridoio semibuio mentre l'emozione mi decimava le parole che mi ero preparato dopo poco dal buio emerse un volto noto quello della scrittrice questa mi disse subito come poi annotonna la presentazione del libro che la storia era scritta male ma che non poteva non essere pubblicata lei avrebbe fatto di tutto per adempiere quello che riteneva un dovere editoriale e aggiunse che la pubblicazione non sarebbe stata facile perché il direttore della sua casa editrice era ostile ai libri che non erano selezionati da lui comunque avrebbe provato lunghi giorni passarono dopo questo primo incontro ogni 15 giorni telefonavo nella sede romana dell'editore e la scrittrice mi informava di aver fatto leggere il mio libro a personaggi della cultura e della politica persino a un sindacalista storico per avallare presso l'editore la sua proposta di pubblicazione io ero così colpito dall'incredibile occasione che decisi di usare le mie conoscenze di gestione dell'energia pensiero per vincere l'ostilità che il direttore editoriale aveva nei confronti del mio libro e spronare la volontà che la scrittrice aveva di pubblicarlo conobbi fugacemente il direttore editoriale nella sede romana della casa editrice e ne rammentai le fattezze in più ritagliai da un giornale una sua foto e la fissi bene in vista sulla mensola sulla quale tenevo la macchina da scrivere a un mese dall'incontro con la scrittrice ero pronto ad agire magicamente continua a un mese dall'incontro con la scrittrice ero pronto ad agire a un mese dall'incontro con la scrittrice e anche l'ocontro con la scrittrice per la scontro con la scrittrice Grazie a tutti.